Mentre in città si lavora per i sottoservizi, l'amministrazione comunale pensa già all'idea di città futura. Una città con una pavimentazione bella e soprattutto una città smart, moderna e pedonalizzata, con le auto nel centro storico ridotte al minimo. L'idea è quella di creare delle opere accessorie e delle infrastrutture adeguate. Priorità riportare anche il commercio in centro, come afferma l'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila, Maurizio Capri. Noi non vogliamo dire la sole la nostra, vogliamo anzi che ci sia una partecipazione per capire come sarà la pavimentazione del futuro. Tenete conto che ci auguriamo che sarà la pavimentazione futura per sempre, sperando che non ci siano altri problemi negli anni futuri, quindi una pavimentazione che vada nella direzione di una modernità anche rispetto a quelle che sono le più belle città italiane e le più belle città europee. Inoltre, se permettete, quando si parla di pavimentazione e di infrastrutture si parla anche di quello che è un progetto che l'amministrazione ha per il futuro del centro storico. Voi sapete tutti, è stato già annunciato dal Sindaco nei giorni scorsi e nei mesi scorsi, io mi sento oggi di ribadirlo. Noi puntiamo molto alla pedonalizzazione, la pedonalizzazione quasi assoluta del centro storico. È ovvio che per parlare di pedonalizzazione del centro storico quasi assoluta bisogna parlare anche di infrastrutture. Per infrastrutture si intendono parcheggi di prossimità, si intendono piani viari e del traffico che siano in sintonia con quello che è l'obiettivo dell'amministrazione. Ma soprattutto l'obiettivo principale è quello di riportare la gente in centro attraverso anche il rientro delle attività commerciali.